Cosa sono questi pettegolezzi, queste mettere insieme cose che non c'entrano, sgarbi, soldi del principe e lui offre posti al ministero? Io non ho offerto assolutamente niente. Senzioni sarebbe venuto gratuitamente a dare il contenuto delle sue capacità, della sua organizzazione, di quello che aveva fatto già al Parlamento. Ma perché soltanto pettegolezzi, soltanto pettegolezzi, la pettegola Mackinson, pettegola, 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 con l'inutile travaglio, un direttore che non riesce a controllare il tuo giornale, non racconta fatti, diffama, diffama, diffama. Caro Mackinson, caro, cara pettegola, caro, caro, inutile, inutilissimo, diffamatore travaglio, pagherete, pagherete tutto.